Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 7, 1, non veloce questo, qui veloce. 1, 2, 3, 4, come posso? 2, 1, 2, 3. Cambiato manica. 1, 2, 3, 4, come posso? 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 1, 2, 3, 5, come posso? 1, 2, 3, 5, come posso? Non vedo perché nel mio cervello ci sono punti morti, così, non vedo. Sul calcio un ultimo momento quando arriva c'è ombra non vedo, non vedo, non vedo. però così vedo lì e vedo lì tiro verso di me con questa mano, guardate no? lui tira verso lui oh oh e hop inghietto avanti va 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 ma non vabbè tira spiglie così non sono santo hop 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 aspettiamo non subito guardate cranchio 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 no numero uno va giro un, due, tre, quattro, cinque, sei oh però cerchiamo di non fare sbaglio uno contro l'altro non ne va in realtà se io corretto perché cranchio è corretto, guardate oh non faccio incidente se invece non cranchio se guanti ma non c'entra nei guanti fa male lo stesso la tecnica la tecnica perciò uno un, due, tre, quattro, cinque, sei oh ragazzi insieme a Giacomo 50% ragazzi un, due, tre, quattro, cinque, sei un, due, tre, quattro, cinque, sei piana però quanti distanti quanti dentro e chi va ah ah thank you hop 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 ah ah ok è non è è è è è è è però è è è è Sì Non si sa dare tecniche di jiu jitsu molto difficili, soltanto dovrai bloccare il forza possibile, dov'è? Questa parte. Non si sa bene. Niente. Puš. 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 Grazie. Vediamo spesso questo movimento. Questo movimento. Gion. Guadishashou, Guadishadai. Hayan Yongdan. No. Non ce la faccio se vuoi dare. Si. Ni. Ni. Si. Ni. Si. Gu. Si. 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 Se lui è molto forte, meglio ancora. Più braccia forte, io più forte di lui. Verso lui ancora di più. Si. 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 Posso fare anche questo. Posso fare anche questo. sempre. Si. 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 inutile io ho i occhi giudano 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 a terra come prima non semplicemente se lui qua è molto furbo mi ha alzato io qui no itch no 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 no